Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, buon 2023 a tutti quanti, questo infatti è il primo video che finalmente giro nel 2023 ragazzi. Abbiamo iniziato questo nuovo anno con il piede sbagliato, con una settimana di ferie che non volevo prendermi e a causa delle placche, febbre e quant'altro. Ma sono tornata più forte di prima ragazzi e iniziamo questo nuovo anno con un video che non vedevo l'ora di farvi vedere, un nuovo video make up in cui andremo a testare una nuova marca di make up. Sapete che a me piacciono tantissimo i first impression video che ogni tanto faccio sul canale ed oggi come avrete potuto capire dal titolo andremo a provare Zanzanzan, una fantastica marca di make up di cui sono veramente veramente felicissima di provare i prodotti. Sono super in hype, la marca di cui andremo a provare il make up ragazzi, bando alle ciance, è Huda Beauty e ho approfittato dei saldi natalizi per fare qualche acquisto. Vi faccio vedere velocemente le cose che ho comprato, ovvero un fondotinta Glowish che è un fondotinta illuminante, quindi perfetto per la mia pelle secca. Poi ho preso una bellissima palette ragazzi che ve lo dico a fa, questo è lo schema colori. Poi ho preso un mascara per sopracciglia colorato e infine una bellissima tinta. Insieme a tutti questi prodottini che ho ordinato mi è arrivata questo bellissimo borsellino marcato Huda Beauty, super carino con tutto questo pitone, in cui c'era dentro la bellissima palette e eyeliner che mi sono dimenticata di portare qui ma ve lo farò vedere nel corso del video. In più mi sono arrivati un sacco di prodottini campioncini, ovvero una maschera notte, uno scrub e un siero. E in più mi è arrivato anche questo tester di primer che andremo ad utilizzare insieme perché non ho ancora messo nulla sul viso. Bene ragazzi, io come sempre prima dell'inizio del video vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando se vi fa piacere iscrivetevi, lasciatemi un like e commentate. Detto questo direi che possiamo partire con il video! Eccoci qua ragazzi sempre nella nostra postazione make up, la nostra amata e direi che partiamo immediatamente perché sono troppo 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 contenta e troppo curiosa di provare tutti questi make up. Allora io direi che partiamo con questo primer, insomma non ce n'è molto però per una volta basta e avanza, io abbondo perché cosa faccio? Lo lascio qui? Ma che, ma che, vi giuro ragazzi sono troppo contenta di provare questi trucchi e soprattutto di iniziare il nuovo anno appunto con questa cosa qua, con questa first impression make up. Allora, la texture è molto liscia, gel, mi piace molto, si asciuga anche molto velocemente, mi sembra molto idratante, io sinceramente infatti si chiama Water Jelly Hydrating Primer. Sapevano già a chi stavano mandando il pacco? Alla signora pelle secca? Benissimo! Primer l'abbiamo messo, ora partiamo con il nostro grande fondotinta. Allora, già premessa ragazzi, a parte che c'è un sacco di prodotto, ma il problema qual è stato? Che ho preso un colore sicuro, sicuro, troppo scuro. Soprattutto per il pallore della mia pelle di questo periodo dell'anno, durante l'inverno, io divento bianca come un cadavere. E provando, guardando il colore appena i prodotti sono arrivati, mi sono accorta che, cioè, siamo proprio, vedete? Ci siamo capiti. Siamo al limite della black face, ma sono sicura che questo prodotto in estate riuscirò ad utilizzarlo di più. Oggi vediamo come riusciamo a gestire il colore, però volevo provarlo comunque insieme a voi. Vi dico, sicuramente è scuro, però pensavo peggio. Per l'estate è perfetto, ma proprio perfetto. Soprattutto essendo un fondotinta molto glowy, cioè si vede dalla prima proprio stesura, che è super illuminante, super luminoso. Ma è favoloso, adoro. Abbronzata oggi. Mi piace tantissimo il finish. Lasciate perdere il colore, adesso lo andremo a correggere con il correttore. Però il finish, veramente, è una meraviglia. Molto, molto glowy, eh. Quindi per pelle grassa, ragazzi, assolutamente no. Scordatevelo. Come poi io mi scordo di tutti quei fondotinta super matt, ovviamente. E niente, ragazzi, mi piace tantissimo. Si asciuga subito sulla pelle. Vedete com'è? È sana. Proprio dall'effetto è pelle sana. Ha una coprenza non esagerata, ma io la preferisco sinceramente che troppa coprenza. Poi soprattutto, in questo caso che lo utilizzerò d'estate, sicuramente perfetto direi. Ora vado leggermente a schiarire con un po' di correttore e torniamo. Allora ho messo correttore, ho fatto un po' di contouring in crema per provare a un attimo sistemare il colore della mia faccia troppo scura. Sono ancora un po' scuretta, sono bella baciata dal sole. Però, ragazzi, volevo farvi notare che comunque, nonostante gli altri prodotti che io ho messo stratificato sopra, comunque il viso è rimasto super luminoso. Cioè, è veramente fantastico. Ve lo volevo far vedere prima di mettere la cipri, appunto, perché dopo si andrà a mattificare sicuramente un po'. Però, veramente, sono super super soddisfatta di questo fondotinta. Io direi che un 8 su 10 per la texture, se lo merita. Forse anche 9, perché io sono particolarmente affascinata da quei fondotinta non troppo coprenti, che non fanno quel cerone. Fosse stata estate, ragazzi, probabile che gli avrei dato 10, però visto il periodo storico, visto che è inverno, al momento preferisco cose leggermente, leggermente più coprenti. Adesso andiamo, direi, con le sopracciglia, con il nostro prossimo prodotto. Volevo, inizialmente, utilizzare soltanto questo mascara che ho comprato da Uda Beauty, perché è colorato, però i miei tre peli non me lo permettono. Quindi ho disegnato leggermente la fine delle sopracciglia, così da avere, comunque, abbastanza spazio per far vedere bene questo bellissimo mascara. Spero di aver azzeccato il colore. Diciamo che questo mascara, penso, debba soltanto andare a colorare il pelo, non tanto a tirarlo su. Beh, io ho una differenza, seppur minima la noto. Secondo me, oltre a colorarle, le infoltisce leggermente, perché io mi sento più folta. E poi, soprattutto, vedo che sullo scovolino ci sono questi pelettini, non so se lo notate, che secondo me infoltiscono. Non ho letto bene la descrizione del prodotto, però comunque si chiama Bomb Browse Full and Fluffy. Quindi full. Secondo me c'è anche un che di rimpolpante per le mie povere sopracciglia scarne. Mi piace tantissimo, mi piace un sacco come tiene comunque le sopracciglia a posto, le rimpolpa, le rinfoltisce leggermente e le colora. E niente ragazzi, a questo pure do, ma fai un sette e mezzo su dieci, otto, sette e mezzo su dieci, perché è molto bello, però non mi ha fatto dire wow. Comunque, passiamo agli occhi, che sono la parte più importante. Ho leggermente spolverato la palpebra con un ombretto color crema, per fare un attimo una base, ultimamente lo sto facendo sempre. E ragazzi, andiamo con la nostra palettina. Allora, diciamo che lo schema principale è quello dei verdi, infatti ho intenzione di fare un make-up abbastanza su quel colore lì, su quel tono. Ci sono degli shimmer che mi fanno impazzire, che voglio assolutamente usare, ovvero i due centrali. E poi comunque mi piace la palette perché ha anche dei nude, quindi si riesce a fare volendo anche un make-up più semplice. Io direi che possiamo iniziare con questo colore di transizione, vado giusto a sfumare. Mi piace già molto come si sta sfumando il colore. E vado sempre a portarmi verso l'esterno. Mi piace un sacco, è super pigmentato, ne ho veramente preso una punta, ma l'effetto è super. Comunque, comunque... Stavo già facendo il danno. Stavo già facendo il danno, è integra, grazie al cielo. Comunque, questo per dirvi che volevo... Ce n'erano un sacco di queste palettine, ce n'erano quattro se non sbaglio. Ed erano tutte molto belle. Ce n'era una sul proprio nude, un'altra sul rosato, una sui neri, grigi, oro, comunque molto fredda. E questa qua, tutta colorata. Ovviamente io sono andata sul colorato, però erano veramente bellissime. Quindi vi invito a dare una sbirciata. Poi sono super tascabili, quindi si riescono a portare anche in viaggio molto facilmente. Comunque, tornando a noi, io direi che andrei con questo marrone più scuro, leggermente, ma leggermente proprio. Giusto per dare un attimo di dimensione, poi andremo a sfumare il tutto. Ecco qua, sto già sporcando. Comunque, vado giusto a sporcare per dare dimensione e dopo iniziamo ad usare i nostri coloris. Questo qua, un verde, un verde acqua, diciamo. Guardate che meraviglia. Che è più un azzurro, non so. Comunque vado qui. Vediamo un po' la pigmentazione. Mi sembra una grande pigmentazione, ragazzi. Mega male il nostro azzurro Piton. Allora, è molto più azzurro che verde, vi dico la verità. Però non mi dispiace, ha un'altra performance rispetto alla cialda, che nella cialda sembra molto più sul verde. Però veramente, ragazzi, cioè, che ve lo dico a fa' questi colori si sfumano, che è una meraviglia. Cioè, vedete, l'ho solo appoggiato sull'occhio e già si è sfumato perfettamente. Fantastico. Sì, il colore è un po' diverso da quello che mi aspettavo dalla cialda. Però si vede che è proprio, magari, il colore che ci ho messo sotto, un po' che magari sulla mia pelle, dà questo effetto qua. Però mi piace molto. Ora, mi piace molto, direi che continuiamo su questa strada, usando questo bellissimo colore qui, che è simile, però brillantinato. Adesso vado a vedere un attimo sul dito, è così. Quindi, vediamo se è meglio usare il dito o il pennello. Ma che meraviglia. Che meraviglia. Ma, ragazzi, sapete che io ho un debole per gli shimmer, cioè, anche nelle palette più brutte che ho provato, comunque, gli shimmer mi piacciono sempre. Ma questo. Io vi dico la verità, io questa palette l'ho presa principalmente per questo shimmer qua. Cioè, ha proprio tantissimi colori all'interno, un sacco di perle diverse. Pazzesco, brava Uda. Poi, comunque, nonostante sia un brillante, è bello coprente. Nel senso, è molto pigmentato. Quindi mi piace tanto, tanto, tanto. Non ho provato come funzionava col pennello, però col dito direi meraviglia. E si sa che gli shimmer con il dito danno sempre il meglio di loro. Adesso io vorrei tentarmela con quest'altro verde, perché siamo stati troppo sul monocromo, nonostante, comunque, questo shimmer mi faccia impazzire. Adesso voglio provare ad andare ad utilizzare questo verde per illuminare un po' l'interno qua del mio occhio. Questo è il verde. Che ve lo dico a fa? Che ve lo dico a fa? E questo, cioè, se è possibile, è ancora più bello. No, decisamente più bello. Questo è il mio preferito. Tu mio preferito sei? Ma ragazzi, che meraviglia. Top, ragazzi. Che meraviglia. Bene, dobbiamo passare alla rima inferiore. Direi che sopra abbiamo già dato. C'è un bel purpurri. Mi piace tantissimo. Poi guardate come si sono sfumati anche i due brillantini. Io praticamente non li ho toccati. Bene, rima inferiore. Io continuerei con la pazzia, visto che ci siamo dati a quella. E andrei a mettere questo sulla rima inferiore, un po' per ricondurci più o meno all'interno del nostro occhio. Vado a prendere questo giallo verde lime e lo vado a mettere nella rima inferiore. Vediamo che gioia. Il gialli. I gialli sono sempre molto complicati. Non mi sembra niente male. Allora, vi dico la verità, me l'aspettavo un po' più strong. È un po' diverso da come si presenta sulla cialda. Qua lo vedo un po' più timido. Però noi abbondiamo e adesso la pigmentazione gliela diamo. Sì, non mi dispiace, ragazzi. Partiamo dal presupposto che no, non mi dispiace per niente perché è bellissimo. Però insomma, dalla Uda si pretende sempre molto. Vado a sfumarlo. Vediamo se diventa ancora più pazzo. Lo sfumo più verso il basso abbondantemente, così magari lo rendo più visibile. No, mi piace tantissimo. L'unica cosa è che appunto, secondo me, sull'occhio si è un po' ossidato e quindi non è brillante come magari può essere appunto sulla palette. Bene ragazzi, allora, direi trucco occhi che l'abbiamo terminato. Io direi che meraviglia. Gli shimmer mi hanno fatto impazzire. Questa palette, una delle migliori che ho, bellissima, favolosa. Direi che gli do un 8 su 10, 8 e mezzo anche. Soltanto perché appunto, come già vi dicevo, questo ombretto che ho messo nella rima inferiore, me l'aspettavo migliore. Ma, ragazzi, gli shimmer sono qualcosa di assurdo, pazzesco. E niente, adesso andiamo a testare, zan zan zan, l'eyeliner per terminare il trucco occhi. Allora, voi dovete sapere che io non sono, ma già lo sapete, non sono un amante degli eyeliner in penna, senza qualcosa in cui tocciare. Perché smettono di funzionare. Tutti quelli che ho comprato in passato hanno tutti smesso di funzionare, almeno la seconda, terza volta che li usavo. Vediamo se Uda è di altro avviso. Ehm, cosa? Cosa? Perché fa così? Io non sono un'esperta di eyeliner in penna, ma perché non è intenso? Ragazzi, come si fanno a usare questi prodotti? No, ragazzi, cioè. Non funziona. Imbarazzante. Io ho ragione, ho sempre ragione. Gli eyeliner in penna fanno schifo. Allora, vedete com'è ora? Io sto usando un eyeliner di Catrice, capito? Una delle marche più low cost dei low cost. Guardate la differenza. Prima con quello di Uda, che non funziona. Questo è il dopo con l'eyeliner di Catrice, ragazzi. Io cosa devo dire? Devo sperare che l'eyeliner di Uda non funzionasse perché era in un kit insieme alla palette? Però la palette funzionava. Sarà che è colpa degli eyeliner in penna? Chi lo sa? Io non voglio partire prevenuta, ragazzi. Fatemi cambiare idea. Se volete, scrivetemelo nei commenti. Ma io ogni volta che ho provato un eyeliner in penna, e giuro ragazzi, io questo eyeliner non l'ho mai usato prima. Cioè, è la prima volta che lo uso. Com'è possibile che il primo tratto lo fa bene, il secondo peggio, poi smette di funzionare. Io, sempre così mi è capitato. Lo devo tenere a testa in giù? Lo terrò a testa in giù? Lo ritesterò, ovviamente. Ma... Mi dispiace l'eyeliner 0 su 10. Proprio così. Cattiva. Cattivissima. Adesso mascara e si passa alle labbra. Ragazzi, questo turco occhi mi piace da morire. Mi fa impazzire. Mi piace tantissimo gli shimmer. Ma ve l'ho già detto. Continuo a osannare questi shimmer. Mi piace veramente tantissimo. Grande Huda Top Palette. Ma... Finiamo. Dobbiamo terminare il nostro makeup. Dobbiamo terminare il nostro makeup con... Zan, zan, zan. Una bellissima tinta labbra. Avevo già annusato l'odore. Mi piace tantissimo. Mi sono anche sporcata. Grande. È un colore un po' nude. Con una punta di rosa. Secondo me anche. Si chiama Wifi. Molto bello, secondo me. Proviamo a vedere come sta anche con il trucco occhi. Ma secondo me niente male. Vediamo un po' come performa. Fa un po' di striature. Solo lasciamo asciugare. Non è molto uniforme. Huda! Pronto ci siamo al telefono. No, comunque. A parte gli scherzi. È super smooth. Super scorrevole. È come non avere nulla. Super morbida. Però, non lo so. Mi sembra poco pieno il colore. Vedete? Abbia come... Non so se la risoluzione della mia fotocamera è abbastanza potente da far vedere queste piccolezze. Però mi sembra che abbia un po' delle striature. Sembra di vedere un po' il colore delle mie labbra sotto. È molto nude. Non che io non sia una fan. Però è molto nude. Non mi dispiace, vi devo dire la verità. Nel complesso il makeup è stupendo. Secondo me le labbra stanno anche molto bene. Con gli occhi che abbiamo creato. Mi piace un sacco. L'unica appunto è queste striature che non mi fanno impazzire. Mi sembra di avere le labbra vecchie. Ecco. Però, tutto sommato, ragazzi, io adoro. La tinta labbra sarà forse il colore? Sarà la formulazione del colore? Allora, la formulazione del colore non mi fa impazzire. Gli darei un 6,5. La formula invece di scorrevolezza, proprio di com'è stata creata la tinta. Un 8. Quindi, è un po' pareri contrastanti. La proverò, la testerò. Vediamo anche la durata poi, effettivamente. Però mi piace molto, ha anche il profumo. Super. E niente, ragazzi, questo è il look completo. Mi piace tantissimo. Veramente favoloso. Favoloso. Nient'altro da dire se non favoloso. E niente, ragazzi, spero piaccia anche a voi il trucco che abbiamo creato oggi. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento e un like. Fatemi sapere anche se questo video di first impression vi è stato utile, appunto, per decidere se comprare o meno Huda Beauty. So che è un marchio molto costoso. Cioè, comunque, nella fascia degli high cost. Però, fa un sacco di sconti. Quindi, se ne avete l'opportunità, ragazzi, io ve lo consiglio perché è davvero super. La palette mi è piaciuta tantissimo. Il fondotinta anche, lasciando stare il colore. Bellissimo. Super approved questa marca, ma non avevo dubbi. Mi piace tantissimo. E niente, ragazzi, io vi mando un bacione, come sempre. Ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!